Viale Parolini imboccato contro mano, frontale ieri sera tra due auto e traffico in tilt in piena, ora di punta. Il conducente di una Peugeot 205, un 83enne che vive in Svizzera, ha imboccato in senso opposto il viale partendo da Piazzale Trento. Giunto all'altezza della biforcazione davanti a Liceo Brocchi è entrato in collisione con una seconda vettura, una Seat Ibiza guidata da una donna di 59 anni, residente a Fonte, che proveniva da Viale 11 febbraio, che non ha riuscito a evitare l'impatto. Fortunatamente le persone al volante sono rimaste illese, forti i disagi, si diceva, alla circolazione rimasta praticamente bloccata per più di un'ora, in attesa che gli agenti della polizia locale di Bassano eseguissero tutti i rilievi e i mezzi venissero rimossi.